Fuori strada con il furgone muore un uomo di Longano, alla guida del mezzo un pensionato di 69 anni, Antonio Caranci ha perso la vita sul colpo, sul luogo dell'incidente, anche il sindaco del paese. De Beneditti se forte riparte la campagna elettorale, botta e risposta tra i due candidati sindaci attesi al vallottaggio, con me maggioranza solida dice l'esponente di centrodestra, aspetterei a cantare vittoria ribatte la candidata progressista. Portaggi e vigneti danneggiati dalla Grandine a Termoli e in Basso Molise, la conta dei danni provocati dall'improvvisa bomba d'acqua. Gli agricoltori chiedono l'intervento per avere risarcimento. Street Art Festival di scena Civita Campomarano, weekend di colori ed emozioni per la nona edizione della manifestazione, artisti internazionali, protagonisti di un vero e proprio museo a cielo aperto. Il giorno della finale per lo scudetto di Serie D, domani alle 18, Campobasso e Trapani si giocano il titolo di campione, si gioca sul neutro di Grosseto, la partita sarà seguita con collegamenti sul canale 18 di Telemolise. Buon pomeriggio, un saluto a tutti voi. La cronaca in apertura potrebbe essere stato un malore a provocare l'uscita di strada del furgone guidato da Antonio Caranci questa mattina a provocare l'incidente che è costato la vita all'uomo di 69 anni. Sul posto anche il sindaco del paese, una comunità attonita, ce ne parla in questo servizio Davide Gambardella. Stava rientrando a casa dopo aver accudito le pecore all'interno della sua masseria alle porte di Longano, quando forse, colto da un improvviso malore, è finito fuoristrada. Un incidente che non ha lasciato scampo ad Antonio Caranci, 69 anni, originario del paese in provincia di Sernia. Poco dopo le 8 del mattino, la sua Renault Kangoo è stata trovata da alcuni passanti in una stradina di località Montelongo. Sul posto i carabinieri del comando provinciale di Sernia e i vigili del fuoco. Gli operatori del 118 non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. La cura della campagna e per il bestiame erano diventate ormai un hobby per il 69enne in pensione, che tutte le mattine si recava nella sua masseria nonostante le ormai precarie condizioni di salute. Viveva con la sorella e il cognato che sono arrivati sul luogo dell'incidente per il riconoscimento. L'ultima volta che lo hanno visto in paese è stata la sera prima, dove in piazza stavano festeggiando Sant'Antonio. Un uomo umite, ben voluto da tutti, grande lavoratore. Così viene descritto da tutti Antonio Caranci. Il sindaco di Longano, Cristian Sellecchia, lo conosceva bene e aggiunge che tutta la comunità è rimasta sconvolta. Ieri era in piazza, l'altro giorno era comunque la messa e processione, persona veramente che amava la comunità e amata tutta la comunità. Veramente un evento triste e brutto per la nostra piccola collettività. Adesso è il momento del lutto e una persona che merita di essere ricordata, che ripeto, amico di tutti e legato molto al suo paese. La pagina elettorale con il ballottaggio tra sette giorni. Abbiamo una maggioranza solida e siamo convinti della nostra proposta. La dichiarazione di Aldo De Benedittis che oggi ha incontrato i giornalisti. Se vinciamo noi Campobasso sarà governata. In caso contrario al primo scoglio potrebbe arrivare il commissario. Sentiamo Tonino Danese. Parole decise e quelle con le quali Aldo De Benedittis affronta la settimana che separa Campobasso dal voto di ballottaggio. Il candidato sindaco del centrodestra ha ribadito il sostegno pieno di tutta la sua squadra e la convinzione di avere in ogni caso una maggioranza solida di 20 consiglieri a Palazzo San Giorgio. Nessun salto della quaglia, nessuna campagna acquisti. Andiamo avanti con convinzione, serietà e coerenza, detto De Benedittis. Sicuramente noi abbiamo la maggioranza in consiglio. Quindi qualsiasi altro tipo di maggioranza dovrebbe essere composta, come parlano già questi del centro-sinistra, con gli ingiugi oppure con i salti della quaglia. I candidati consiglieri che saranno eletti sicuramente stanno tutti con me, hanno firmato un documento con il quale hanno dichiarato la fedeltà al centrodestra e fedeltà anche al sottoscritto. E questa è una cosa che mi fa estremamente piacere. Se Pino Ruta si apparenta con forte, ha continuato un cartello elettorale per le poltrone. Non lo so, se lo faranno io mi apparendo con i cittadini di Campobasso, il resto è tutto relativo. De Benedittis ha poi evidenziato quelli che secondo lui sono i problemi di Campobasso, su cui ha le idee chiare, dal traffico alla raccolta di fiuti alle contrade. Dimenticate, noi andremo a favore di tutti i cittadini per avere una città migliore, sfruttando la filiera amministrativa, detto ancora. Per De Benedittis, che ha sottolineato anche di avere esperienza amministrativa rispetto alla competitor, scegliere al ballottaggio forte significherebbe cadere al primo ostacolo in consiglio, ha dichiarato. Adesso stiamo rifacendo la campagna elettorale, anche se i tempi sono chiaramente molto, molto ristretti. Oggi sarò in Contrata Macione, domani andrò al Fevo, ci faremo tutte le contrade per far capire ai cittadini che qualsiasi altra maggioranza non si formerà e quindi il Comune di Campobasso entrerà nell'obbligo, nell'oscurantismo, in quanto verrà nominato un commissario, perché al primo atto fondamentale, il bilancio, l'assestamento, alcune variazioni del bilancio, la giunta CACA del Consiglio, per cui saremo sottoposti al commissario, prefettizio, e quindi si ripoterà tra sei mesi, un anno, adesso non c'è il tempo, però in questo periodo di tempo si perderanno molti finanziamenti. Chiederò ai Campobassani ha concluso un voto utile per voltare pagina. Certamente, voto utile per la città di Campobasso. Ad oggi ha replicato la candidata sindaca della coalizione progressista, Maria Luisa Forte. Ad oggi non c'è stata alcuna proclamazione di consiglieri comunali, che avverrà solo dopo il turno di ballottaggio. Ai miei avversari, ha continuato Maria Luisa Forte, consiglierei molta cautela, perché già abbiamo vissuto questa situazione quando lunedì scorso, durante la serata, ho comunicato che ci sarebbe stato il turno di ballottaggio e per due giorni il centrodestra ha invece sostenuto che De Beneditti si aveva vinto al primo turno. Non c'è bisogno, ha concluso la Forte, di ricordare che dopo un'attesa di 48 ore è stato proclamato proprio il ballottaggio. Lunedì alle 18.30 Maria Luisa Forte incontrerà in Villa Musenga, Villa Brisotti, a Campobasso, sostenitori, candidati e cittadini, Villa dei Cannoni, come preferite chiamarla. In pochi minuti la grandine dell'altro giorno ha distrutto ampie colture su una fascia che va da Guglionesi alla costa. Siamo stati nei campi, nessuna speranza per interi raccolti di ortaggi, danni anche alle vigne. Sentiamo Andrea Nasillo. Piante alte, anche oltre un metro, ora quasi rase al suolo. Ortaggi bucati dalla furia della grandine che in pochi minuti ha letteralmente distrutto. Interi raccolti di pomodori, peperoni e zucchine, ma anche vigneti rigogliosi ora annientati. Come pietre i chicchi di grandine hanno danneggiato una fascia di terreni che va da Guglionesi alla costa, una zona circoscritta che coinvolge diverse colture e altrettanti agricoltori, ora abiliti. Dieci minuti d'inverno, hanno distrutto tre mesi di duro lavoro, investimenti altissimi, che si sa che ormai è aumentato tutto, tra gasolio, prodotti fitosanitari, concimi, piantine che noi andiamo comunque a comprare e piantare, investimento altissimo. Dieci minuti ha distrutto tre mesi di lavoro. In questo momento dove siamo esattamente? Siamo sui miei campi di pomodori, zona della Torre, la fascia più colpita di Termoli, perché questa è stata la più colpita di tutta la nostra zona, i miei campi, i campi dei miei confinanti, dei miei colleghi che anche se non conosco però la voce si è sparsa, ha fatto veramente una strage, possiamo chiamarla. Ha colpito un'intera fascia di diversi agricoltori e imprenditori? Sì, esattamente, è proprio una fascia, diciamo, larga, 200 metri, 300 metri, la portata da Guglionesi fino al mare, tutto, ha macinato tutto, tutto, tutto. Investimenti sostanziosi naufragati, la speranza sta nei trattamenti, che però oggi non possono garantire certezze di ripresa. Bisogna ripartire da capo. Alcune colture erano già pronte per la raccolta, restano piante letteralmente ferite, foglie immerse nella terra, uno scenario certamente inusuale. Questo è quello che rimane dei pomodori, pomodori rovinati, tutti i pomodori rovinati. E ora proviamo a recuperare il recuperabile, la trattiamo, proviamo a salvare il salvabile, almeno per recuperare le spese dell'investimento fatto da marzo ad oggi. Se ci affacciamo sotto queste piante è come se fosse passata una trincia, è passata sul pomodoro e ha trinciato tutto, è una cosa impressionante, mai vista, ho 25 anni, non ho mai visto in vita mia una cosa del genere. Rone del Sannio è tra i primi dieci comuni d'Italia nel report sui comuni rinnovabili di legambiente, tra quelli più virtuosi per quanto riguarda l'eolico, la distribuzione della potenza installata, registra per ogni abitante 95 kilowatt. La popolazione di Morrone, censita nel rapporto, è di 524 abitanti. In Italia dopo 12 anni, dicono, legambiente tornano a crescere le fonti energetiche rinnovabili con 579 gigawatt di nuove installazioni nel 2023, per una crescita importante ma ancora non sufficiente per raggiungere gli obiettivi 2030. In Molise per quanto riguarda la distribuzione delle rinnovabili al primo posto celerolico, poi il fotovoltaico, l'idroelettrico e il bioenergetico. Ci sono anche due molisani nell'ambito dell'inchiesta sull'ospitalità dei migranti condannati a Santa Capito e nel Cassinate. Il verdetto del Tribunale di Cassino è arrivato dopo 5 ore di Camera di Consiglio, 17 condanne e 5 assoluzioni. Nel processo Welcome to Italy, tra i condannati è anche l'ex sindaco di Santa Capito e un tecnico comunale. Nel paese in provincia di Isernia c'è uno dei centri d'accoglienza finiti nell'inchiesta della procura di Cassino. A Isernia invece tre provvedimenti emessi dalla questura nei confronti di altrettanti uomini che hanno aggredito fisicamente e verbalmente mogli o ex compagne. Un fenomeno in crescita, ha detto il questore della cioppa. Sentiamo. Aggredite davanti ad altre persone, schiaffeggiate e strattonate da mariti ed ex compagni violenti. Dall'inizio dell'anno una quindicina di episodi. Lo ha ricordato il questore di Isernia, Davide della Cioppa, che nelle ultime ore ha emesso altrettanti provvedimenti restrittivi nei confronti di uomini che hanno maltrattato mogli ed ex fidanzate. Li hanno notificati gli agenti della divisione anticrimine della questura di Isernia con l'obiettivo di offrire una rapida tutela alle vittime di condotte aggressive e violente. Il primo provvedimento è stato emesso nei confronti di un giovane che aveva aggredito l'ex compagna nei pressi di un noto bar del centro storico della città. L'uomo ha prima strattonato tirandola per un braccio la sua ex compagna e poi l'ha minacciata insultandola e promettendo di pubblicare loro video intimi sui social se avesse continuato a rifiutare di riallacciare i rapporti con lui. Pochi giorni fa, un altro episodio, un uomo ha aggredito e malmenato la sorella convivente e provocato la caduta della madre che era intervenuta in soccorso della donna nel tentativo di porre fine alle violenze. Il terzo ammonimento è stato emesso nei confronti di un marito violento che in pieno giorno e a pochi passi da un negozio molto frequentato ha preso a parolacce la moglie a cui ha poi messo le mani addosso e minacciato la figlia che era intervenuta per difendere la madre. Dall'inizio dell'anno la divisione anticrimine della questura di Isernia ha amesso e notificato più di 15 provvedimenti di ammonimento in molti casi, ha dichiarato il questore di Isernia Davide della Cioppa, queste misure di prevenzione si sono dimostrate efficaci nell'interrompere il ciclo di violenza vissuto dalle vittime in ambito domestico e affettivo. Più di 10.000 donazioni al 31 dicembre effettuate in Molise da parte dei soci dell'Avis si apprende dal report pubblicato dall'Associazione di Volontariato in occasione della giornata mondiale del sangue. Per questa circostanza è stata lanciata una campagna per sensibilizzare i giovani sull'importanza della donazione sfatando anche falsi miti ancora molto diffusi. Si chiama Buon Sangue Non Mente l'iniziativa nata in collaborazione tra il Ministero per lo Sport e i Giovani attraverso il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale insieme all'Avis. Parliamo di turismo delle radici per una stagione estiva che è ormai cominciata. Arriva anche il questionario della ConfCommercio. Ce ne parla in questo servizio Tonino Danese. Poche domande e una decina quelle contenute in un questionario attivabile con QR code per rilevare il grado di soddisfazione e l'identità dei clienti del turismo delle radici che in estate saranno in Molise emigrati o comunque persone che hanno scoperto di avere antenati molisani e vogliono tornare nei luoghi di origine o conoscerli per la prima volta. L'iniziativa è della ConfCommercio regionale che l'ha lanciata durante una conferenza stampa a illustrarla la direttrice Irene Tartaglia con Carlo Durante presidente della Federazione Pubblici Esercizi collegato da remoto il responsabile nazionale turismo di ConfCommercio Alberto Corti. Con la SVG abbiamo realizzato questo questionario che sarà un'opportunità per rilevare quelli che sono i dati dei turisti con origini ma anche magari con un interesse al nostro territorio quindi origini molisane e poche domande con cui andremo poi a capire a rilevare anche la soddisfazione di coloro che tornano nella nostra regione se lo fanno magari perché vogliono scoprire le loro radici e quindi i loro antenati quali sono magari le nostre tradizioni dei nostri paesi e capire proprio questo una serie di informazioni che ci permetteranno poi durante il periodo autunnale di tornare sull'argomento come avevamo promesso e di analizzarli tutti insieme con gli esperti del settore e con la nostra ConfTurismo nazionale per dare veramente un supporto concreto agli imprenditori del territorio e magari capire poi anche per la nuova stagione come orientarsi e cosa o poterlo organizzare in base a quello che viene rilevato recentemente è stato siglato anche un partenariato con l'associazione Moli e il suo passaporto del Molise un strumento molto semplice che è possibile ritirare anche presso le nostre strutture dove si ha un po' così questa possibilità per qualsiasi comune che aderisce per le attività economiche che aderiscono di poter mettere un passaporto rispetto al turista ma anche semplicemente un molisano che decide di visitare un nostro comune che magari non ha mai conosciuto e quindi un po' fare collezione di quella che è la storia e la tradizione molisana notte movimentata Isernia per polizia e carabinieri a caccia di un ladro di appartamenti che ha cercato di entrare in una casa di via Kennedy aggrappandosi alle tubature esterne del palazzo a far scattare l'allarme le persone che erano all'interno della casa al terzo piano che hanno sentito degli strani rumori sul posto le volanti della questura di Isernia e i militari del comando provinciale il malvivente è riuscito a calarsi lungo la parete dell'edificio utilizzando la grondaia i controlli sono proseguiti senza esito però per tutta la notte torniamo alle elezioni vi facciamo sentire i sindaci riconfermati a Ripalimosani Petrella Montagano e Sant'Angelo le interviste sono di Marta Martino Petrella Tifernina riconferma per la terza volta Alessandro Moruso come sindaco con la lista il melograno 459 le preferenze riportate contro le 258 dello sfidante Virginio Marinelli per Movimento Equità Territoriale una grande soddisfazione ha commentato Amoroso significa che in questi anni abbiamo lavorato bene e i cittadini ci hanno premiato il terzo mandato è una grande sfida anche in questa occasione è stata molto combattuta tra l'altro è stato fatto tanto e ci prepariamo a fare di più i programmi quindi il programma è in pratica una sorta di continuazione di quello che già è stato avviato con grossi obiettivi da raggiungere in parte ripeto sono stati già realizzati e continuiamo su questa su questa onda e quindi continueremo a lavorare sin da subito per portare avanti quello che c'eravamo prefissati riconferma anche per Giuseppe Tullo sindaco di Montagano che con la sua lista in armonia ha riportato 587 voti la lista sfidante impegno sociale per Montagano capeggiata da Ivana Rossi si è fermata a 69 preferenze abbiamo raggiunto un bel risultato questa volta e siamo contenti perché comunque è stato premiato il lavoro fatto nei cinque anni e abbiamo composto una lista anche questa volta di qualità con persone capaci volenterose e ora dobbiamo solo andare avanti con il lavoro e mantenere uno spirito di squadra senza egoismi senza interessi particolari diciamo si deve lavorare con entusiasmo per l'interesse del gruppo e del paese di Montagano programmi iniziati negli ultimi cinque anni da portare a compimento nei prossimi cinque anche per il sindaco di Ripa Limosani Marco Giampaolo riconfermato dopo una combattuta sfida a tre la sua lista Ripa Futura ha portato a casa 909 voti contro i 633 della lista anch'io per Ripa di Giovanni Trivisonno e 423 voti di rinascita Ripa capeggiata da Angelo Cristofaro una soddisfazione enorme con enorme divario rispetto ai concorrenti e questo perché il paese ha voluto premiare chi ha amministrato questi cinque anni in aggiunta anche alla nuova squadra perché ovviamente la squadra è composta anche da nuovi elementi rispetto a quello che era l'amministrazione precedente e tutti insieme abbiamo creato un grande gruppo un grande gruppo che durante tutta la campagna elettorale ha fatto solo proposte di idee di progetti e di programmi che vuole realizzare in questa comunità e ha premiato la competenza una campagna elettorale tranquilla invece a Sant'Angelo Rimosano dove nonostante le due liste candidati e cittadini si sono uniti per il bene del paese natale di Papa Celestino V che punta al turismo e a migliorare la viabilità il riconfermato sindaco William Ciarallo ha un programma molto vasto in questi anni sono previsti molti lavori anche nella strada provinciale quindi anche i collegamenti con il capoluogo miglioreranno e quindi tutto ciò fa buon sperare in un buon turismo e anche nel fatto di rimanere a Sant'Angelo raggiungere il capoluogo con meno difficoltà poi voi da qua su avete una vista spettacolare dalle Tremiti al Gran Sasso vedendo il nostro bel Matese ancora emergenza cinghiali in Molise nel video che stiamo per mandare in onda realizzato da una cittadina di Campobasso si vedono una trentina di animali attraversare la strada a Colle dell'Orso non è un caso isolato ha commentato e la nostra spettatrice la situazione sta diventando insostenibile inoltre l'erba nei terreni circostanti non di nostra proprietà è incolta e facilita la presenza dei cinghiali noi manteniamo pulita la nostra area ha aggiunto la cittadina ma le zone adiacenti sono trascurate ci sono anche bambini che giocano davanti alle proprie case e insomma come vedete sono davvero tanti i cinghiali che attraversano la strada una trentina abbiamo detto weekend di colori ed emozioni per la nona edizione dello street festival di Civita Campomarano artisti internazionali protagonisti di un vero e proprio museo a cielo aperto ce ne parla Andrea Nasillo nove candeline per il Civita street festival Civita Campomarano si trasforma ancora una volta in un museo a cielo aperto gli artisti della nona edizione hanno cominciato a dipingere sui muri del paese stanno colorando di luce ed emozioni il borgo tra i più suggestivi del Molise il festival diretto da Alice Pasquini e organizzato dall'associazione culturale Civita Art porta quest'anno in Molise il duo inglese Sneak noto per l'utilizzo della tecnica degli stencil multilivello rigorosamente tagliati a mano Stroke artista norvegese che si distingue per le sue creazioni surreali poetiche tridimensionali Octavi Serra artista catalano che tra design e fotografia costruisce vere e proprie installazioni concettuali che criticano la società contemporanea sollecitando il cambiamento e Taxis artista greco di origini polacche sempre in bilico tra realismo ed astrazione negli anni oltre 70 opere provenienti da tutto il mondo hanno lasciato un segno indelebile giorni di arte di culture e di emozioni non mancheranno anche un workshop fotografico e una performance di slam poetry che vedrà gareggiare tra loro aspiranti poeti giudicati dal pubblico stasera spazio alla musica ogni edizione ha detto Alice Pasquini ci fa vivere esperienze diverse tutte ugualmente intense nessun rischio per la fiera delle cipolle in programma Isernia dal 29 al 30 giugno lo ha assicurato l'assessore Vittorio Monaco che ha sollecitato che è sollecitato dal consigliere di opposizione Eugenio Chianinsky ha chiarito che l'opposizione si svolgerà regolarmente saranno garantiti i margini di sicurezza per svolgere la fiera ha spiegato Monaco aggiungendo che saranno attivate tutte le misure affinché possa tenersi nel miglior modo possibile 50 ragazzi con disabilità a pranzo con il Rotary Club l'iniziativa di solidarietà a Isernia con la cooperativa LAI sentiamo Davide Gambardella Un pranzo insieme ai ragazzi disabili della cooperativa LAI per rimarcare i valori della solidarietà e dell'inclusione un'iniziativa organizzata dal Rotary Club di Isernia a cui hanno partecipato oltre 50 ospiti nella sala dell'auditorium c'è stato buon cibo tanta musica intrattenimento ma soprattutto dei camerieri d'eccezione i rappresentanti del Rotary con il presidente Romolo Dorazio metto per un giorno oggi vedere tutti questi ragazzi che sono stati meno fortunati di noi e dei nostri figli così contenti gioire per noi è veramente un motivo di orgoglio abbiamo voluto organizzare fortemente questa giornata una giornata in cui noi del Rotary serviamo questi ragazzi della cooperativa LAI e ne approfitto per ringraziare l'amministrazione comunale di Isernia che ci ha concesso gratuitamente questa sala la Prologo di Isernia che ci ha supportato con la logistica e le altre associazioni come i Maci e la UCI di Isernia che hanno collaborato all'organizzazione credo che sia stato un anno molto impegnativo abbiamo fatto tante cose tanti eventi sia nel campo della cultura presentazione di libri concerti abbiamo riempito l'auditorium qui con la cover dei pu abbiamo organizzato raccolte fondi per la poliomilite giornate come questa di oggi insomma in un anno che non è tanto tempo anche se è faticoso per il Presidente un anno per un anno abbiamo cercato di concentrare il massimo delle attività possibili quindi ritengo che sia stato un anno molto positivo il gruppo Harlem Design ha allargato l'offerta commerciale a Termoli con nuovi marchi sentiamo il servizio di Antonio Di Lallo ha fatto molto piacere stasera vedere tante persone vuol dire che hanno ancora stima di noi che riusciamo a dare ancora un contributo alla regione molise e a Termoli che ci ospita da 24 anni sono 24 anni che abbiamo aperto lo showroom tu eri presente 24 anni fa e quello è un gioiello questo è il figlio del 24enne che ha fatto un figlio piccolo il grande è piccolo e quindi queste sono quelle cose che sono le cose più belle i soldi non servono chi dice che si lavora per soldi non servono serve il cuore serve l'affetto e serve il rispetto e serve la stima però Nicola sotto sotto questo aspetto puoi essere contento perché qui vedo veramente tantissima gente che insomma dimostra proprio la sua stima io chiedo scusa a questa gente perché hanno sudato sta fuori col sole forte che ci stava e vuol dire che hanno fatto un sacrificio per loro per onorarci e quindi noi ringraziamo e onoriamo loro che ancora credono sull'azienda Harlem un'ulteriore crescita dell'azienda ma la crescita dell'azienda noi cerchiamo a parte che lavoriamo col cuore poi se riusciamo a fare un passo avanti un passo in più lo facciamo l'importante è che stiamo ancora sul mercato e la gente dopo 50 anni ancora viene e ci stima e ci rispetta e lei lo può dire altri lo possono dire vengono diciamo sono venuto 30 anni fa a comprarmi un salotto è ancora nuovo adesso Nico Balice è anche sindaco di Termoli da pochi giorni sì sono contento questa è una delle mie prime uscite e sono contento di inaugurare questa sede questa sera anche perché l'ho detto già in campagna elettorale le istituzioni devono stare fisicamente vicine all'impresa e questa deve essere la riprova è solo l'inizio certamente senti tu sei l'ho detto prima uno sportivo poi ti conosco per cui alla fine so che queste parole non sono di circostanza se vogliamo essere volano per tutto questo territorio il nostro territorio che è il Molise deve essere per forza così siamo noi i primi a doverci sacrificare fisicamente dobbiamo andare noi dalle imprese dare una mano e farci sentire vicino a loro due appuntamenti prima di salutarci domani dalle 16 alla Senior Club Comunità alloggio per anziani a Ferrazzano in programma l'evento il vento che sussurra riflessioni per la giornata mondiale di sensibilizzazione contro gli abusi sugli anziani e nel pomeriggio invece a partire dalle 18 8 e 10 trasmetteremo in diretta sul canale 18 la presentazione del libro di Don Gabriele Tamilia Sandro Daripa discepolo e primo biografo di Padre Pio la cerimonia e in programma nella chiesa di Santa Maria Assunta di Ripa Bottoni è tutto per il TG314 grazie per essere stati con noi il prossimo appuntamento con la nostra informazione il telegiornale 19.30 buon pomeriggio grazie per la visione